Ciao da Francesco Nano, benvenuta e benvenuto su scuolasuono.it. Con questo video andiamo a commentare quelli che sono stati i risultati del nostro ultimo sondaggio proposto su Scuola Suono. La domanda a cui siete stati invitati a rispondere era Ad oggi è ancora possibile sbarcare il lunario in maniera più che dignitosa vivendo unicamente della propria musica? Cioè il musicista di oggi può ancora aspirare a vivere unicamente della propria arte o deve rivolgersi anche ad altre occupazioni per arrivare alla fine del mese? Le due risposte possibili erano no, ormai non c'è più posto per i musicisti in Italia. L'altra era sì, è ancora possibile grazie ad internet e dalle nuove tecnologie. Ebbene, i risultati del sondaggio ci dicono questo, che il 52% di noi, di noi musicisti, ritiene che ormai non ci sia più posto per la sua arte nel mercato italiano o nel mercato in generale, cioè che non sia più possibile vivere della propria arte. Poco importa se per soli due punti percentuali vince il no, nel senso che questo non è un sondaggio politico, non ci interessa avere delle proiezioni per le elezioni o qualcosa del genere. Il dato rilevante, secondo me, è, anzi ce ne sono due che emergono da questo sondaggio. Il primo è che metà dei musicisti non credono di poter vivere della propria arte e quindi già questo ci fa capire quale sia lo stato d'animo negativo proprio della popolazione di musicisti. Cioè, il musicista ha una vocazione che è quella di portare, diffondere nel mondo la propria arte. Io almeno così la vedo. E l'arte di un musicista viene allo scopo di far star bene una persona che ascolta la sua musica. Per esempio, io sono un vecchietto, quindi ascolto ancora i CD. Io prendo il mio vecchio CD, un CD dei police, lo metto in macchina e vago nel traffico, magari anche incavolandomi con chi mi sta di fronte, ma il CD dei police ha tutto volume, mi fa stare bene e mi fa sopravvivere alla giornata. Io utilizzo così l'arte prodotta dai musicisti. Il fatto che un gruppo, una band, un artista veda già l'impossibilità di poter campare della propria arte, secondo me pregiudica la buona riuscita dei suoi prodotti musicali, della sua arte, delle sue produzioni. Cioè, pensiamo bene, quando andiamo in studio a registrare qualcosa, oppure anche nel nostro studio, intendo dire, quando ci decidiamo di produrre della nostra arte. In quale stato d'animo siamo? Siamo in quello stato d'animo, ah, questo sarà il disco che finalmente darà una svolta alla mia vita? Oppure siamo in uno stato d'animo, ah, ACP che ha altro tempo, altri soldi investiti in questa passione che forse, forse non mi porterà mai a niente? Ebbene, secondo me, da quello che ho potuto vedere nel sondaggio, la maggior parte dei musicisti, quasi tutti i musicisti, ritengono di non poter vivere della propria arte. Quasi tutti, anche se c'è stato un 48% che timidamente ha ammesso che forse, sì, si potrebbe trovare qualche strada alternativa, però, attenzione, il secondo dato interessante che abbiamo ricavato da questo sondaggio è il fatto che nessuno nel blog ha commentato, ah, sì, io sto in questo momento vivendo di musica, la mia arte è tutto per me, sto giorno e notte in studio, produco lavori, li vendo al mio pubblico, che sia online, che sia offline, in qualche modo, diciamo, riesco a campare con la mia musica, chiunque intervenuto ha detto sì, forse, per quanto positivo possa essere stato il suo commento, forse si può ancora riuscire a vivere della musica, ma è comunque necessario integrare con attività che vadano al di là, insomma, dei concerti o del lavoro in studio. Quindi si tratta di fare lezioni in primo piano, si tratta di eventualmente collaborare con arrangiamenti, con altre strutture, diciamo, cercare di muoversi un po' a 360 gradi, ma mannaggia, nessuno mi ha detto sì, effettivamente io riesco a vivere, perché altrimenti l'avrei intervistato subito, gli avrei chiesto, senti, ma tu come accidenti fai a vivere solamente della tua musica? e questo sarebbe stato sicuramente qualcosa di molto interessante per tutti noi. Vorrei dare anche io la mia opinione, in realtà è già trapelata dalle risposte che ho dato nei post all'interno del blog di ScuolaSuono.it. Ebbene, la mia visione è una visione perennemente ottimistica sulle questioni, di solito dà anche abbastanza fastidio a chi mi sta vicino, difficilmente, diciamo, riesco a vedere il peggio in una situazione, o se mi capita, mi capita per breve tempo, dopodiché vivo nel mio mondo da sognatore, un paeremo di internet da cui scruto un po' l'universo e mi pare sempre di intravedere delle soluzioni ottimistiche e positive ai problemi. Dunque, ti propongo quella che è la mia visione e poi la approfondiremo nelle puntate successive. Diciamo che questo è un punto di partenza. Da qua sviluppiamo nei prossimi interventi questo argomento, cioè, quelle che sono, per quanto è la mia competenza, la mia esperienza, le possibilità per i musicisti nel web. Secondo me le possibilità per i musicisti ci sono. Cioè, oggi come oggi, sebbene ci sia la crisi economica, sebbene ci siano delle grosse rivoluzioni, dei grossi sconvolgimenti mondiali, e sebbene tutto questo, il musicista ha ancora la possibilità di vivere della propria arte. Questa è la mia visione, la mia opinione personale. Non pretendo di riuscire a dimostrarti che ciò sia vero, però mi piacerebbe fare dei tentativi, fare delle prove. Nel senso che io ho delle idee teoriche. Cioè, vedo che c'è internet, vedo che ci sono i social network, vedo che ci sono certi meccanismi economici che regolano la rete, e mi dico perché non applicare questi meccanismi anche ai musicisti. In fin dei conti, secondo me, il grosso problema del mercato musicale è il fatto che tutto si basa sul fatto che i musicisti spendano. C'è questo grande, grosso mercato musicale, nel quale, tra l'altro, mi ci metto dentro anch'io, perché anch'io faccio dei corsi molto interessanti. Assieme al mio socio Gaetano Cirillo, abbiamo l'Accademia del Mixaggio, che assolutamente sei invitato a frequentare. Ma, oltre a noi, ci sono anche miliardi di negozi di strumenti musicali, corsi anche non online o offline, e tutto questo, io ho come l'impressione che tutto questo grosso movimento economico, che comunque c'è perché gli strumenti musicali si continuano a vendere, alla fine si riversi unicamente sui musicisti, dove, secondo me, gli utenti, fruitori, finali del lavoro dei musicisti e quindi come viene impiegato un certo strumento musicale acquistato per produrre arte, dovrebbero essere invece gli ascoltatori. Ora, sappiamo bene che i CD non si vendono più, sappiamo bene che grazie ad Emule, ai Torrent, tutti quei sistemi là, insomma, di peer-to-peer, la musica circola tranquillamente. E quindi, secondo me, non è più pensabile di far, come dire, di far combaciare ad uno scambio di denaro il fatto che io possa ascoltare la musica, perché tanto la musica me la scarico gratis. Cioè, ormai la cultura in cui viviamo è questa, non sto dicendo che sia una cosa corretta, giusta, però prendiamone atto e vediamo se ci sono delle altre alternative verso le quali muoversi. Secondo me le alternative ci sono ed alcune alternative, alcune idee, te le darò prossimamente. e poi mi piacerebbe vedere se c'è qualche temerario di scuolasuono.it che vuole mettere in pratica queste idee, perché fino a che io parlo in teoria e dico le cose in teoria, è un conto, ma vedere qualcuno che, sulla base di alcuni suggerimenti, riesce magari a crearsi il proprio giro di fa, la propria clacca di persone che sono contente di acquistare l'arte che produce, perché l'arte che produce sono delle belle canzoni arrangiate bene e registrate benissimo perché fai parte dell'accademia del mixaggio di scuolasuono.it e quindi i tuoi mix sono i migliori, a parte gli scherzi. Facciamo un passo indietro, poi con il prossimo video ti darò qualche spunto in più su come iniziare a colonizzare il mondo del web e a trovare nuovi fan sia attraverso il web che attraverso... Insomma, ti darò alcune idee. Però partiamo da un presupposto di base. Che cosa diamo a noi? Ammesso che il pubblico si possa trovare, quindi ammesso che riusciamo a controbattere a quelle che sono state gli esiti del sondaggio che abbiamo appena visto e quindi riusciamo a rigirare, rivoluzionare la situazione perché Francesco Nano ti dà delle idee interessanti su come trovare nuovi fan. Ammesso questo, ammesso che riusciamo a trovare il tuo nuovo pubblico che sarà disposto ad acquistare la tua arte. Che cosa gli diamo in cambio? È una questione molto seria. Non tutti possono fare i musicisti, non tutti sono dei grandi compositori, non tutti sono dei grandi chitarristi o anche se lo sono, magari la loro arte non piace. Quindi, secondo me, bisogna fare prima un passo indietro e cioè andare a vedere quali sono le possibilità artistiche da offrire al nostro pubblico. Se c'è la possibilità effettivamente di produrre materiale di qualità che suoni bene, ben registrato, delle belle canzoni che evochino delle emozioni perché altrimenti se non c'è questo ma che ci stiamo a fare? E fare questo percorso inverso, cioè partire, rilanciare sulla propria arte, secondo me lo si può fare solamente se non si è assolutamente demoralizzati e si pensa continuamente al fatto che tutto sommato non ci sia più la possibilità di vivere di musica perché altrimenti questo è un atteggiamento personale già negativo in partenza. Come fa uno a lavorare bene? Vediamo quanti minuti sono col video. Sì, ci stiamo ancora dentro. Come fa uno a lavorare sulla propria materia artistica, sulle proprie canzoni con lo scopo di voler trasmettere energia quando in realtà sta facendo un lavoro già con l'idea, parte già con l'idea che chi lo sa se questo potrà funzionare in questo... Anzi, parte già con l'idea la mia arte non produrrà, non mi porterà una paga. Cioè, in che condizione mentale sei? Sei una condizione mentale assolutamente negativa per partire in una direzione di riuscire a dare dell'energia a quelli che ti ascoltano, a quelli che ti seguono. Quindi, posto il fatto che forse Francesco Nano ha avuto qualche idea su come trovare un nuovo pubblico. iniziamo a fare questa riflessione. Le mie canzoni sono belle, piacciono, la mia arte è interessante, la so registrare bene perché è anche quello importante. Cioè, iniziamo a guardarci intorno perché poi quando avremo un prodotto vendibile e quindi deve essere qualcosa quantomeno che si avvicina alle produzioni non dico delle cose assurde però insomma deve essere presentato dignitosamente, le chitarre devono essere accordate, gli arrangiamenti devono essere coerenti, i suoni devono essere registrati bene, il mix deve essere fatto bene, possibilmente ci deve essere un mastering perché altrimenti il suono prodotto da una produzione di bassa qualità sicuramente non sarà paragonabile con quello che uno si scarica gratuitamente e quindi qua sicuramente c'è un collo di bottiglia. Bisogna renderci essere indipendenti sulla fase di produzione eventualmente anche fondando un team di lavoro una collaborazione però bisogna raggiungere dei risultati decenti e paragonabili con quello che si può scaricare in rete gratuitamente altrimenti che cosa vendiamo? Ebbene con questo sproloquio con queste riflessioni ti saluto anche perché se no poi il video non mi sta più su youtube ti abbraccio ci vediamo con il prossimo video su scuolasuono.it ciao da Francesco Nano ciao